Aspetta, aspetta, aspetta! Aspetta, aspetta! Aspetta, aspetta, aspetta! 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 Allora, va pure il parcheggio del ristorante con la macchina, no? Lascia la macchina lì, poi continui con la c Stampina, arrivi vicino sotto l'avellone, cioè il decollo al molino! Lì c'è il parcheggio. Te vai subito sulla tua sinistra, come entra il parcheggio, c'è una casetta, c'è un traliccio con dei cavi e lì c'è un pezzo dove noi partiamo sempre. È un decollo! È esposto come questo. è solo circa 50 metri più basso però è comodo perché qua qui parla che india avete l'altro lì, l'altro lì, l'altro lì è qua invece là è tutto un caso pulito la nord è buona nord ovest è uguale come ovest non stiamo a vedere quello lì allora io vado giù sulla strada la trovo il ristorante quando la città vuole è più facile questa è la piazzale questa è la piazzale qua c'è a far via di porta del pallone e la piazzale qua c'è a finire la piazzale questa è la piazzale con una linea e i traienti la piazzale è una piazzale la piazzale è una piazzale dove che cosa? ma dove vede? ma dove vede? ma dove vede? dove? dove? in una puntata la piazzale dove c'è le fascine? c'è le fascine c'è le fascine è passata ma Sandro? era più verso di qua? si era più verso adesso lui ha fatto questo ti allunga quindi è stato il test ma probabilmente lui vedeva che non c'era però quel parapennio vedeva no no basta che c'hai un tipo di 10 metri parevi trostale e ci devi applicare poi Sandro lo vedi? lo vedi? passi d'aria Sandro poi passi così e chiudo metà quindi anche io non lo vedo non lo vedo non lo vedo non lo vedo